Il suo nome è Jack, Jack Dragon, scurta fuoco e sono guarì Respira Pronto? Testa di cazzo che non c'è altro Con chi sta parlando? Io E lei come mai è un picoglione alla persona? Ma lei forse ha sbagliato il numero? Lei mi sta prendendo per il culo Ma con chi sta parlando le ho detto? Io E sto andando a dire Come? Vuoi fare domande? A chi mi sta rompendo i coglioni? E fai domande Cosa è sto merda? Io non vuoi Sto merda Sto merda Pronto? Dite E lei come mai è un picoglione alla persona? Bene bene Piggia E' un po' di me E mi sta parlando le ho detto Che ti rompendo i coglioni E' un picoglione Io? Sì Lei mi sta prendendo per il culo Ma non rompere un cazzo Cos'è l'ordo Cos'è l'ordo? Ci scusiamo Ma è più forte di noi Anche oggi chiameremo Bestegnamina 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 Pronto? Pronto? Io non mi nascondo E anche mi Perché Tu dove sei? Sì? Dove sono io? Treviso Coglione Se io ti dico che vieni qua Scende come te Venissero qua E poi diciamo come prenderesti bene il culo Come prenderesti bene il culo Coglione Coglione De un terreno No Merda è un coglione Io? Una facente Io? Cosa? Bravo bravo Poi cosa devi dire più Dai Cosa dire? Dimi qua coglione Ti piaccio Ho come prenderishes Mi estrati i cuori Lo mangio Mi è stardo Mi bevi to sangue Merda Mi sono i peli Di donna Ma tu non ti rendi conto Che non lo spiegheranno le persone Mi sono i cammari Del mare Oh quando uno ti dice che è il cavaliere del male secondo me è il caso di lasciarlo stare per un po' io vivo per lui strappo il cuore a mani nude e bevo il tuo sangue ragazzi ma mi vedete quando dove abbiamo portato questa persona